La retta universitaria gentilmente offerta da Nicki Minaj Proprio così, la rapper americana ha colto la provocazione di un follower su Twitter e ha pagato le tasse universitarie a più di 30 suoi seguaci sul social Qualche giorno fa la Minaj aveva promesso un biglietto aero a un fan per dargli la possibilità di assistere alla sua esibizione o il Billboard Music Award di Los Angeles A quel punto, però, il fan ha rilanciato, proponendole di aiutare il fan a pagare l'università invece che un concerto La cantante non se lo è fatto ripetere due volte e ha indetto un mini-concurso Requisiti, una mega eccellente difficoltà a sostenere i costi Alla fine della selezione, Nicki Minaj ha scelto una rosa di circa 30 persone da aiutare a sostenere le spese universitarie o a rimborsare presti Una fan di nome Laia, ad esempio, ha ottenuto 1500 dollari per andare al college e 250 dollari da spendere nei libri Il sito TMZ ha verificato che i benefici fossero effettivamente partiti Alla fine della giornata, Nicki Minaj ha scritto, Va bene, ragazzi, è stato divertente Adesso lasciatemi fare questi pagamenti e vediamo se ne rimane qualcosa Ripeteremo tra un mese o due Ripeteremo tra un mese o due